chi è il secondo? vai vai perché ma boccetta di chi? calma scusa ero prima no mi sa l'ho preso con la bolla l'ho preso con la bolla subito va bene ma chi l'ha preso? chi è che me l'ha? scusa sta arriva un razzo no ma come? ma cioè no vabbè io no no vabbè dai razzo che cioè non è valgato cioè io ho fatto di tutto ma cioè pensavo c'è io vorrei che ti parla sta cosa no ma io con l'arga non posso giocare cioè con l'arga non posso giocare eh io ho cercato di lasciare no chi è che mi ha bombato? chi è che mi ha bombato? il dark? ma no 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 Grazie.